carissimi amici e amiche bentornati siamo a una nuova puntata del ciclo di catechesi il peccato originale all'origine di ogni male siamo già ad un livello abbastanza inoltrato questa sera vorrei fare un step ulteriore chi lo sa se forse anche riusciamo a fare quello conclusivo per quanto riguarda la presentazione appunto del peccato originale maria valtorta prima di trarre un pochino le conclusioni ripeto che non ho letto tutti gli scritti inerenti a maria valtorta tutti quanti i passaggi vari sparsi perché sarebbe un lavoro veramente troppo troppo lungo ma l'essenza di quello che il signore ha rivelato a questa mistica ormai la già conosciamo manca una cosa che per la verità per chi tra gli ascoltatori di questo ciclo di catechesi segue anche quelle bibliche è un argomento che abbiamo già trattato a proposito delle catechesi bibliche sull'antico testamento quando abbiamo affrontato il sesto capitolo del libro della genesi dove il passaggio misterioso di genesi 6 1 4 è sempre stata una croce degli interpreti quindi come tanti passaggi della sagra scrittura molto scuri e quindi molto difficilmente interpretabili ecco dicevo passaggi molto scuri e quindi molto difficilmente interpretabili e trova però una lettura davvero convincente negli scritti di maria valtorta e da questa lettura peraltro traggono anche spiegazione quei resti di fossili esistenti che mostrano l'essere umano che tanto essere umani in fondo non era ma purtroppo appariva come un mezzo scimmione come cose di questo genere insomma no qui c'è la spiegazione vedremo perché poi la prossima volta dovremo dalla prossima volta spero forse ci vorranno un altro paio di puntate dovremo rapidamente affrontare come già varie volte accennato il tema degli scritti presentati come oggetto di una rivelazione privata di don guido bortoluzzi sulla genesi biblica e la conoscenza di questo passo è fondamentale anche per capire diverse differenze che ci sono tra i due e peraltro proprio da dalla lettura di genesi 6 si appoggiano a quanto pare diciamo così i fautori di una continuità tra gli scritti attribuiti a questo alle rivelazioni di questa società e gli scritti di maria valtorta quando in realtà come vedremo c'è una differenza molto molto profonda ecco anche se il fenomeno a cui fanno riferimento entrambi è analogo che è quello dell'ibridazione del genere umano ora vediamo quello che anzitutto quello che scrive maria valtorta devo leggere il testo che è abbastanza lungo ma è molto importante si trovano i quaderni da 45 al 1950 del 30 dicembre 1946 comincio la lettura sento la notizia che hanno ritrovato in una caverna scheletri di uomo scimmia resto pensierosa dicendo come possono asserire ciò saranno stati brutti uomini volti scimmieschi e corpi scimmieschi ce ne sono anche ora forse primitivi erano diversi da noi nello scheletro mi viene un altro pensiero ma diversi in bellezza non posso pensare che i primi uomini fossero più brutti di noi essendo più vicini all'esemplare perfetto che Dio aveva creato e che certo era bellissimo oltre che fortissimo penso a come la bellezza dell'opera creativa più perfetta si sia potuta avvelire tanto da permettere agli scienziati di negare che l'uomo sia stato creato uomo da Dio e non sia l'evoluzione dalla scimmia Gesù mi parla e dice cerca la chiave nel capo sesto della Genesi leggilo lo leggo Gesù mi chiede capisci? no signore capisco che gli uomini divennero subito corrotti e nulla di più non so che attinenza abbia il capitolo con l'uomo scimmia Gesù sorride e risponde non sei la sola a non capire non capiscono i sapienti e non gli scienziati non i credenti e non gli atei stammi attenta e comincia a recitare ora passa alla citazione del testo e avendo cominciato gli uomini a moltiplicarsi sulla terra e avendo avuto delle figliole figli di Dio o figli di Set videro che le figliole degli uomini figlie di Caino erano belle e sposarono quelle che fra tutti a loro piacquero ora dunque dopo che i figli di Dio si congiunsero con le figlie degli uomini e queste partorirono ne vennero fuori quegli uomini potenti famosi nei secoli gli uomini che per potenza del loro scheletro qui riprende a parlare Gesù colpiscono i vostri scienziati che ne deducono che al principio dei tempi l'uomo era molto più alto e forte di quanto è attualmente e dalla struttura del loro cranio deducono che l'uomo derivi dalla scimmia i soliti errori degli uomini davanti ai misteri del creato non hai ancora capito ti spiego meglio se la disubbidienza all'ordine di Dio e le conseguenze della stessa avevano potuto inoculare negli innocenti cioè Adamo ed Eva il male con tutte le sue diverse manifestazioni di lussuria, gola, ira, invidia superbia e avarizia e presto l'inoculazione fiorì in fratricidio Caino che uccide Abele provocato da superbia, ira, invidia e avarizia ma quale più profonda decadenza e quale più profondo dominio di Satana avrà provocato questo peccato secondo attenzione a questo passaggio Adamo ed Eva avevano mancato al primo dei comandi di Dio all'uomo comando sottinteso nell'altro di ubbidienza dato e due mangiate di tutto ma non di quest'albero l'ubbidienza è amore se essi avessero obbedito senza cedere a nessuna pressione del male fatta al loro spirito al loro intelletto al loro cuore alla loro carne essi avrebbero amato Dio con tutto il loro cuore con tutta la loro anima con tutte le loro forze come molto tempo dopo fu esplicitamente ordinato dal Signore non lo fecero e furono puniti ma non peccarono nell'altro ramo dell'amore quello verso il prossimo non maledissero neppure Caino ma piansero sul morto nella carne cioè Abele e sul morto nello spirito cioè Caino in uguale misura riconoscendo che giusto era il dolore da Dio permesso perché essi avevano creato il dolore con la D maiuscola con il loro peccato e per primi dovevano sperimentarlo in tutti i suoi rami rimasero perciò figli di Dio Adam ed Eva e con loro i discendenti venuti dopo questo dolore Caino peccò contro l'amore di Dio e contro l'amore del prossimo infranse l'amore totalmente e Dio lo maledisse e Caino non si pentì perciò egli e i propri figli attenzione a questo passaggio non furono che figli dell'animale detto uomo e c'era questo passaggio lo diciamo anche noi nel parlare comune quando vediamo una persona che è proprio un delinquente proprio un sanguinario un violento gli diciamo ma quello è un animale ecco l'abrutimento di Caino con questo peccato spietato insomma che uccide brutalmente il fratello senza pentirsi proseguo la citazione se il primo peccato di Adamo ha fatto di tanto decadere l'uomo che avrà prodotto di decadenza e il secondo al quale si univa la maledizione di Dio quali fomiti di peccato nel cuore dell'uomo animale perché privo di Dio e a quale potenza saranno giunti dopo che Caino ebbe non soltanto ascoltato il consiglio del maledetto ma lo ebbe abbracciato come suo padrone di letto uccidendo per ordine sua la discesa di un ramo di quello avvelenato dal possesso di Satana non ebbe sosta ed ebbe mille volti Satana quando prende corrompe in tutti i rami quando Satana è re il suddito diviene un Satana un Satana con tutte le sfrenatezze di Satana un Satana che va contro la legge divina e umana un Satana che viola anche le più elementari e distintive norme di vivere di uomini dotati di anima e si abbrutisce nei più laidi peccati dell'uomo bruto dove non è Dio è Satana dove l'uomo non ha più anima viva è l'uomo brutto e il bruto ama i bruti la lussuria carnale più che carnale perché afferrata ed esasperata da Satana lo fa avido di tutti i connubi bello e seducente gli pare ciò che è orrido e sconvolgente come un incubo illecito non lo appaga è troppo poco è troppo onesto è pazzo di libidi ne cerca l'illecito il degradante il bestiale quelli che non erano più figli di Dio perché col padre e come il padre avevano fuggito Dio per accogliere Satana si spinsero a questo illecito degradante bestiale ed ebbero mostri per figli e figlie quei mostri che colpiscono i vostri scienziati e che li traggono in errore quei mostri che per la potenza delle forme e per una selvaggia bellezza ed un'ardenza belluina frutti attenzione del connubio fra Caino e i brutti fra i bruttissimi figli di Caino e le fiere sedussero i figli di Dio ossia i discendenti di Set per Enos Cainan Malalel Iared Enoch di Iared da non confondersi con l'enno di Caino Matusala Lamech Enoè padre di Sem Cam Iafet fu allora che Dio ad impedire che il ramo dei figli di Dio si corrompesse tutto con il ramo dei figli degli uomini mandò il diluvio a spegnere sotto il peso delle acque la libidine degli uomini e a distruggere i mostri generati dalla libidine di Senza Dio insaziabili nel senso perché arsi dai fuochi di Sat e l'uomo l'uomo attuale farnetica sulle linee somatiche e sugli angoli zigomatici e non volendo ammettere un creatore perché è troppo superbo per poter riconoscere di essere stato fatto ammette la discendenza dai bruti per potersi dire noi da soli ci siamo evoluti da animali a uomini e si degrada si autodegrada per non volersi umiliare davanti a Dio e discende oh se discende ai tempi della prima corruzione ebbe di animare l'aspetto ora ne ha il pensiero e il cuore e la sua anima per sempre più connubio col male ha preso il volto di Satana in troppi scrivilo questo dettato nel libro più ampiamente avrei tattato l'argomento come ti avevo detto nel luogo del tuo esilio a combattere le teorie colpevoli di troppi pseudo sapienti ma deve bene esservi un castigo per coloro che non mi vogliono sentire nelle parole che scrivi sotto dettatura mia avrei svelato grandi misteri perché l'uomo sapesse ora che i tempi sono maturi non è più il tempo da contentare le folle con le favolette sotto la metafora delle antiche storie sono le verità chiave a tutti i misteri dell'universo ed io le avrei spiegate attraverso il mio piccolo paziente Giovanni perché l'uomo dal sapere la verità traesse forza a risalire l'abisso per essere sullo stesso piano del nemico nell'ultima lotta che precederà alla fine di un mondo che nonostante tutti gli aiuti di Dio non volle diventare un pre-paradiso ma preferì divenire un pre-inferno e questa pagina mostrala senza darla a quelli che tu sai a uno sarà aiuto contro i resti di una pseudoscienza che atrofizza il cuore agli altri aiuta la già forte spiritualità per la quale in tutto vedano il segno inconfondibile di Dio questo brano è un brano fondamentale amici perché cosa dice in sintesi per la perfezione del peccato di Caino che non soltanto contro l'ordine di Dio come i suoi genitori genitori Caino è di Adam e Deva di Caino ricordiamolo questo pecca contro l'amore del prossimo e quindi va abbrutendosi in una maniera perfetta e quindi lui le passioni già scatenate dal peccato originale si pazziscono e comincia ad essere avido di lussuria bestiale detto proprio in termini espliciti e comincia lui e i suoi figli ad unirsi con le bestie con le fiere attraverso queste unioni avviene tecnicamente si chiama così quella che si chiama una ibridazione nascono degli uomini bestia e sono i resti dei fossili che trovano gli scienziati però attenzione che cosa specifica altrimenti Gesù quindi io e te che stai ascoltando non veniamo dalle scimmie dalle bestie perché col diluvio universale spiega Gesù questa aberrazione Dio l'ha seppellita l'ha fatta venire per questo motivo prima che tutti quanti questi mezzi mezzi uomini e mezze bestie corrompessero tutto compreso Noè e i suoi figli è arrivato il diluvio che ha fatto piazza pulita Noè e i suoi figli non erano ibridati perché discendevano da Dama e da Eva per la discendenza pulita cioè per quella che passa attraverso Sem che è il terzo figlio di Dama e da Eva non quella che passa attraverso e attraverso Caino non Sem scusate Seth Sem il figlio di Noè D'accordo? Oh questo è no importante di più perché è vero che c'è stata un'ibridazione del genere umano quindi che però è stata una involuzione attraverso la linea del solo Caino e che non ha intaccato tutto il genere umano ma una parte di esso e a quella il nostro Signore ci ha messo punto col diluvio universale vedremo la prossima volta che in Genesi Biblica di Don Guido Portoluzzi non è affatto detto questo si parla di ibridazione ma di una ibridazione originaria che ha irreversibilmente coinvolto tutta la razza umana per cui secondo quelle rivelazioni noi siamo discendenti dalle scimmie purtroppo lo vedremo la prossima volta ora questo era l'ultimo tassello che mancava un pochino diciamo così ad uno sguardo d'insieme circa gli scritti di Maria Valtorta quindi adesso dobbiamo fare un pochino di sintesi andando a rivedere che cosa è negli scritti di Maria Valtorta il peccato originale ci sono diversi punti da considerare teniamo presente facciamo prima uno step indietro perché dobbiamo ricordare che in questo ciclo di catechesi non stiamo semplicemente commentando una rivelazione privata qui siamo alla puntata siamo arrivati abbastanza avanti con le puntate precisamente ci troviamo lo dico subito un attimo un istante alla puntata numero 26 ce ne stanno 25 davanti ma non sono tutte dedicate a Maria Valtorta ci sono almeno una quindicina ma anche di più di puntate che sono state dedicate nella prima parte al pensiero dei padri della chiesa su questo argomento e abbiamo visto che calibri di padri della chiesa ricordiamo alcune cose sono praticamente tutti quanti d'accordo tutti che il coniugio il coniugio sessuato come del resto afferma anche il libro della Genesi comincia dopo il peccato originale perché la concezione di Caino e di Abele si trova al capitolo quarto del libro della Genesi tutti sono praticamente concordi in questo salvo il secondo Sant'Agostino ricordiamolo sempre e più avanti Sant'Ommaso secondo concordano i padri nella maggioranza nel asserire che la condizione dell'uomo voluta da Dio e non più possibile per tutti compresi gli sposi era la virginità secondo terzo più di qualcuno portando fino alle debite conseguenze questo ragionamento dice ma allora come nascevano gli esseri umani in un misterioso modo a noi non noto oltre questo i padri non ci vanno solo uno San Massimo il confessore si azzarda a ipotizzare che proprio in questo consistette il peccato originale cioè nella prima unione sessuale qualcun altro ci si avvicina ma non lo afferma esplicitamente in ogni caso sono tutti quanti d'accordo che la libidine è un disordine che assolutamente non c'era nella condizione di natura integra ora abbiamo sentito quello che Gesù ha rivelato a Maria Valtorta dobbiamo adesso quindi fare una sintesi come sintetizziamo questo pensiero cioè per esempio è corretto dire che il peccato originale fu semplicemente il primo atto sensuale siccate simpliciter per Maria Valtorta non proprio come vedremo non è esatto questo qui perché è spiegato molto bene adesso vedremo un riassunto con i punti con gli step fondamentali che la lussuria carnale fu l'ultimo atto di un peccato complesso che prevede superbia avarizia e gola dopo la disobbedienza e solo al termine lussuria negli scritti di Maria Valtorta c'è qualche accenno a come sarebbe dovuta essere la riproduzione degli esseri umani accenno perché non si capisce bene al 100% non è completamente alzato il velo ci sono dell'espressione degli indizi adesso le andremo a recuperare rifocalizziamo il tutto allora anzitutto dalle scritte di Maria Valtorta risulta ciò che la chiesa insegna che Dio aveva creato Adamo da solo Eva traendola da Adamo che è il primo uomo e il capo stipite del genere umano mettendoli in una condizione di perfezione assoluta sia a livello fisico sia a livello morale sia a livello spirituale questa è tutta la dottrina della chiesa cattolica questa qui secondo erano realmente i re della terra ed erano in uno stato di intima unione con Dio che parlava con loro dice il testo del libro della Genesi nell'abbrezza della sera nei silenzi della sera momenti di pace spirituale erano stati creati per l'immortalità con una vita lunghissima e felice sulla terra peraltro vita lunghissima che se si guarda se si guardano insomma i numeri biblici per i primi uomini 800 anni 900 anni insomma non è una settimana insomma no quindi sono sono abbastanza lunghi ma non solo una vita lunga ma una vita felice sulla terra per poi salire al cielo in anima e corpo in anima e corpo quando Dio lo avesse voluto e avrebbero avuto avrebbero dovuto avere tanti figli e tutti perfetti come loro attenzione però attenzione dovevano procreare primo quando Dio lo avesse deciso secondo senza libidine questo è proprio chiarissimo questo qui se c'è un punto fermo e questo è un punto di contatto assoluto tra questi scritti e quello che pensavano le pari della chiesa è che comunque sarebbe dovuta avvenire la procreazione umana non avrebbe dovuto coinvolgere la libidine il piacere sessuale così come lo conosciamo oggi non avrebbe dovuto essere conosciuto dall'uomo c'è un'espressione come avrebbero concepito in uno scritto si trova in un'estasi d'amore che significherà io non lo so e non so dare una spiegazione certamente ecco perché mi è venuto l'idea di fare un appendice a questo ciclo di catechesi con il testo di Tenera Amata l'amore dei progenitori era vivo e forte intenso secondo anche il nostro modo di pensare il motivo per cui volevo fare riferimento a Tenera Amata è molto semplice perché Tenera Amata conferma che in paradiso non esiste non esiste il piacere sessuale non entra questo lo dice anche Gesù nel Vangelo però attenzione ma non è che il fatto che quello non entri non è che in paradiso stanno come dire come statue in estasi puramente spirituale come ce ne potremmo un pochino noi immaginare con la nostra testa insomma più o meno penso che in molti immaginino questa cosa no non è fatto così lì non si parla dell'amore tra Dio e i beati perché non è argomento alla nostra portata ma lì parla dell'amore dei beati tra di loro che è un amore molto fisico molto fisico ma senza libidine con delle manifestazioni molto profonde ma senza libidine e usa un'espressione lo vedremo dice cioè il paradiso non lo dimentichiamo che è il luogo di concentrazione di tutte le delizie inimmaginabili alla nostra mente umana non possiamo quelle cose che orecchio non vide che occhio non vide né orecchie udine mai entrare nel cuore di uomo scrive San Paolo questo ha preparato Dio per coloro che lo amano ci possiamo stare pensando tutta la vita non possiamo minimamente immaginarci quello che ci attende in paradiso forse qualche santo che ha visto Gesù Cristo che ha visto la Madonna che hanno avuto delle grandi esperienze mistiche si sono fatti un'idea se non c'è avuto queste non c'è ma anche l'idea che si sono fatti loro è sempre un'idea che è molto al di qua perché qualunque esperienza anche sopranaturale anche forte che noi abbiamo su questa terra su questa terra noi stiamo in una condizione di interdizione per cui già per farci vivere qualche cosa di sopranaturale come spiegano bene i maestri i grandi maestri di spirito i grandi maestri di mistica Santa Teresa e San Giovanni della Croce Dio deve fare tuttanto una serie di operazioni di predisposizioni per renderti capace di prendere qualche qualche frammento però per esempio vedere Dio è impossibile fino a quando siamo in questo mondo è proprio impossibile cioè è una cosa che non è possibile in questo mondo il massimo che Dio può dare di se stesso lo spiegano di nuovo bene Santa Teresa e San Giovanni della Croce che ha la visione intellettuale della Santissima Trinità che loro dicono è la grazia più grande che si possa avere in questo mondo è quella che una volta che ce l'hai cominci a non desiderare altro che di morire il più presto possibile ma con con gemiti e con lacrime profonde cioè che la vita ti ha un tormento anche se fosse la vita perché non vuoi perché vorresti che questa cosa non finisse mai e ce l'avessi sempre ma questo ancora non è niente in confronto alla visione beatifica allora noi dobbiamo con tutti i si piaceri della terra non entrerà la libidine quindi è evidentissimo evidentissimo che questa cosa non doveva appartenere agli esseri umani i nostri progenitori questo è un segno che era chiesto l'abbiamo già già visto se non avessero peccato in disobbedienza e superbia la prima cosa attenzione che fu la disobbedienza soprattutto da parte di Eva perché è la disobbedienza quello che Sant'Omaso chiama il costitutivo formale del peccato già Sant'Agostino per la verità perché il peccato si definisce come una trasgressione un'offesa a Dio o meglio fatta disubbedendo o trasgredendo la sua legge il peccato è una disobbedienza a Dio a un ordine che ti ha dato Dio allora è un ordine Dio lo diede perché i progenitori furono sottoposti ad una prova la prova è volontà di Dio tante volte ho detto e ho ridetto e ho ridetto e ho ridetto ecco tutte le polemiche sul padre nostro cioè l'espressione greca caemese neanche seisperamos mon significa non ci mettere alla prova nel senso però non ci mettere alla prova cioè non ci dare una prova troppo grande ma nostro signore alla prova ci mette a tutti quanti non cioè lo deve fare perché se non c'è la prova tu non hai la possibilità di di meritare e quindi di metterti volontariamente e liberamente dalla sua parte senza un esercizio responsabile di libertà e quindi potendo fare il contrario altrimenti la libertà è solo apparente non è possibile Dio alla prova ci ha messo gli angeli ho negli scritti di Maria Valtorta peraltro c'è una lunga sezione dove si spiega che la prova scelta dagli uomini è stata a un livello inferiore rispetto a quella degli angeli Dio gli ha risparmiato agli uomini una prova analoga a quella angelica cioè quella relativa all'incarnazione perché se poco poco gli uomini si fossero ribellati al pensiero dell'incarnazione o avessero presunto di non aver bisogno di un salvatore ma che si salvavano da solo sarebbe stata la fine pure per genere umano si sarebbe posto anche il genere umano in una condizione di irredimibilità di non poter essere redento quindi grazie a Dio ne ha pensato un'altra minore un'obbedienza ce lo dice il libro della Genesi potete fare tutto meno che una cosa non dovete mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male ora secondo gli scritti di Maria Valtorta cosa era quest'albero un albero reale o un albero metaforico esisteva questo albero allora voglio sapere che c'è un principio generale che almeno un tempo inesegesi era adesso no perché con molta facilità gli esegesi parlano di inesistenza di personaggi storici io mi ricordo quando sentivano Giona non è esistito il Mar Rosso non si è aperto Mosè non è esistito cioè nono Mosè Abramo non è esistito cioè con estrema facilità sulla base anche qui di indizi o di risultanze loro le chiamano scientifiche io non so se non voglio entrare adesso in queste polemiche che non ha senso ma un principio fondamentale dell'esegesi era che il senso letterale e storico dei testi va sempre presunto a meno che non sia palesemente inesistente è chiaro che se tu c'è la visione del profeta di Ezechiele che vede il trono di Dio e tutta sta cosa qua il mare di cristallo e gli esseri di 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 quindi è chiaro che non poteva non può essere la favoletta del pomo d'accordo quindi cioè che fa un albero e che te mangi un frutto per avere la conoscenza del bene e del male diventa ridicolo diventa quindi negli scritti di Maria Valtorta però appare che questo è un albero reale cioè che Eva si è proprio recata lì e lì ha trovato il serpente però caricato fortemente caricato carico proprio di significato metaforico e cioè di prova di prova perché il frutto lo sappiamo qual è stato il frutto che è derivato dall'essersi accostato a quell'albero attenzione che dietro questa visione capite no anche il serpente chiaramente animale che allude chiaramente al diavolo abbiamo già visto poi possibili come dire spiegazioni fenomenologiche di quello che è proprio accaduto nel momento in cui la seduzione di Eva si è consumata ed è passata poi agli atti no quindi in un processo insomma sequenziale attenzione c'era l'albero della conoscenza del bene e del male e c'è l'albero della croce ci sono innumerevoli scritti dei padri della chiesa che capite cioè che hanno accostato quest'albero da cui è venuta la rovina all'albero da cui è venuta la salvezza al frutto amaro pendente dall'albero della conoscenza del bene e del male offerto da satana e che è stata la rovina dell'umanità al frutto pendente dalla croce che è il nostro signore gesù cristo che è il pane vivo disceso dal cielo quindi sulla base della come dire della dell'affermazione dell'esistenza anche materiale di quest'albero si fondano tutta una serie di accostamenti storico-teologici che sono stati fatti che se tu dici questo è semplicemente una metafora l'accostamento non c'è più quindi si afferma che è una pianta reale piantata nel giardino dell'Eden ma carica chiaramente nel frutto di un significato metaforico e Dio li ha sottoposti a questa prova a seconda di come si sarebbero comportati il problema era di non avvicinarsi a quella pianta non ti ci devi avvicinare non ci devi andare lì non ci devi andare e quando faccio l'esegesi di questo fatto qui c'è un'espressione greca se no scusate non greca ogni tanto ho dei lapsus continui quando parlo speriamo che il Signore mi liberi da questa mortificazione c'è un'espressione ebraica una costruzione ebraica che quando ricorre dice guarda che se mangerai di quell'albero muori sicuro al cento per cento quindi cerca di starne alla larga quindi erano stati avvertiti e qual era il punto il bene l'hanno già completamente conosciuto da Dio accostarsi a quell'albero voleva significare il desiderio di conoscere il male ma tu uomo non puoi desiderare di conoscere il male perché l'unico che può conoscere il male senza esserne travolto e quindi sapendo dominare questa cognizione è Dio Dio che secondo voi amici non conosce il male è cieco non vede tutti quanti i peccati che si fanno li vede purtroppo tutti li vede cosa gli fa lui conoscere il male niente sotto nessun punto di vista domanda che ne dica qualche cretinetti noi possiamo andare a conoscere il male rimanendo così domanda puoi vederti un film a luce rossa dici ah io mi vedo un film a luce rossa tanto quello sta lì a me non mi fa ne caldo ne freddo puoi farlo io sfido qualunque persona e anche la persona più pura di questo mondo a fare una cosa di questo non lo puoi fare perché si entra in un mondo dove tu il dominio non ce l'hai più perché il male noi non siamo in grado di dominarlo per cui il male è bene ignorarlo pensate anche tutta quanta la carica catechetica che c'ha la comprensione di questo discorso che oggi tutte quante le cretinate che dicono in giro ah no i ragazzi e lasciagli fare le loro esperienze devono fare le loro esperienze è certo che se se te tagli una mano e invece di avere fatto l'esperienza che il coltello taglia però la mano poi ti ricresce capite le stupidaggini che si dicono da 30 anni a 40 50 a questa parte a volte anche con l'avallo di certe branche contemporanee del sapere ecco lasciamolo indeterminato così ognuno ci mette quello che vuole dentro e non creiamo questioni o polemiche inutili no e quindi il rispetto di questo divieto era una prova d'amore era una prova dovuta a Dio dovuta Dio aveva attrezzato i primi ad avere tutti i doni per resistere alla prova perché lo spirito era ancora perfettamente signore dell'io evidentemente però c'era negli uomini il libero arbitrio cioè la possibilità di peccare non ci sarebbe stata solo dopo la confermazione in grazia ma la confermazione in grazia avviene solo dopo che la prova la superi non prima come è stato per gli angeli allora la prima stupidaggine di Eves è stata andare all'albero e la prima operazione che Satana ha fatto è stato il risveglio della curiosità ecco perché la curiosità quante volte l'ho detto e lo ripeto la curiosità qui noi non facciamo tanto caso quindi è ricordato un'espressione che la Madonna usa nei scritti di Maria Voltorta quando parla con Dio dice sì signora a te dirò sempre sì conoscerò solo quello che tu mi farai conoscere la ricerca della sapienza e della verità è una cosa buona ma io tante volte qualche volta è successo anche le domande al termine delle dirette su Telegram per chi la sta seguendo e mi succede anche quando mi trovo in altri contesti pubblici o privati dove mi rivolgono delle domande io sono diventato particolarmente sensibile a questo a questo tema mi dispiace se magari nel farlo notare ahimè mi può capitare di mancare della debita delicatezza ma bisogna fare il confine tra la sana ricerca della verità e del bene che questa è una cosa che da incoraggiare Dio la gradisce la vuole ma bisogna fare molta attenzione a non fare mai lo step più oltre quindi che questa cosa diventa essere curiosi cioè andarsi a fare all'ambiccare o a farsi domande che non te ne devi fare proprio per niente perché questa cosa è pericolosissima perché è stata la curiosità che ha rovinato il genere umano è una leva su cui il diavolo può fare molta forza per andare a stimolare malsane passioni la superbia anzitutto è stata attraverso questa curiosità intellettuale iniziata nel dialogo con Satana che Eva si è avvicinata all'albero ricordiamo no Satana la provoca dice ma è vero che ma no non morirete affatto dice allora lei vede si avvicina dice questo frutto però tutto sommato non sembra così sgradevole e lo coglie è stata la curiosità intellettuale che genera la superbia si avvicina all'albero e che succede brama di essere uguale a Dio diventerete come Dio conoscendo il bene e il male ma come cosa fa Dio per l'antonomasia crea Dio crea tu sarai come Dio se crei da te stesso c'è un modo tu non lo conosci c'è un modo guarda che fanno gli animali lo sai che lo puoi fare pure tu lascia perdere cioè chi te l'ha detto che Dio per perpetuare il genere umano che te le cose che lo farà lui per voi fallo tu lo puoi fare prova anche molta gente che fa le domande ma se Dio non voleva che gli uomini si riproducessero come gli animali che li ha messi a fare gli organi genitali e li ha fatti in un certo modo l'obiezione non ha proprio ragione di essere perché se non ce l'avessi avuti non avremmo potuto essere tentati il fatto che uno abbia questa possibilità non vuol dire che debba essere messa in atto non segue affatto io questa possibilità non la metto in atto e non la metterò mai in atto per grazia di Dio certamente se il Signore mi aiuta perché per carità ecco rimaniamo sempre in una valle santa se il Signore mi custodisce mi aiuto io farò il possibile per non fare stupidaggi ma non la metterò mai in atto non tutto sapete cosa dice anche oggi non tutto ciò che è tecnicamente possibile è moralmente lecito cioè che una cosa sia possibile non segue che sia da farsi o che sia lecito proprio per questo che te l'ha messo proprio perché perché tu dovessi essere fedele e dovevi rinunciare ad esercitarla attendendo che Dio ti mostrasse il modo con cui si dovevano riprodurre gli esseri umani in questo abbraccio capite in questo abbraccio in questo abbraccio di questa estasi d'amore che non sappiamo come siamo io ho visto un pochino in giro c'è chi dice se ne dicono tutti anticolori ma gli uomini sarebbero nati come Gesù come Gesù a me è una cosa che mi nasce un pochino così perché in Gesù c'è stato un fatto un pochino particolare nel senso che Gesù è figlio soltanto di Maria è vero che San Giuseppe è padre vero quindi per essere padre vero abbiamo già detto che non è indispensabile insomma aver concorso anche alla generazione diciamo così genetico-fisica però come via ordinaria per tutti io penso che questa è una cosa a cui non bisogna indugiare troppo accettare qui in parte anche l'umiltà dei padri che dicono non lo sappiamo c'è un modo misterioso che non lo sappiamo quindi qui Gesù da qualche input da qualche traccia d'accordo è una cosa in cui sarebbe che Dio si riservava per sé e che avrebbe fatto conoscere dagli uomini a tempo opportuno in un modo che non conosciamo perfettamente Eva va a optare per l'imitazione animale gli animali lo possono fare o faccio pure io così decido io dove quando come e perché e mi sgancio dalla dipendenza da Dio questo è l'ultimo atto però capite no la disobbedienza cioè prima la curiosità intellettuale la disobbedienza di accostarsi all'albero il desiderare di essere come Dio la varizia l'appetire a questo attraverso la gola e la consumazione attraverso la lussuria prima sperimentata su di sé perché tra l'altro bisognava anche capire che questa cosa non solo che era una cosa che ti rendeva come dire simile a Dio perché tu crei ma pure una cosa piacevole e che quella sia una cosa piacevole come purtroppo tutti sappiamo adesso si può anche fare un test solitario cosa che è assolutamente da presumere l'abbiamo già parlato a suo tempo e anche il modo potremmo anche immaginarsi ne abbiamo già parlato a suo tempo siamo sempre nell'ambito delle ipotesi quindi dalla lussuria morale deriva l'ultimo step la lussuria animale quindi capiamo che il peccato originale non si può dire che consistette tucur nella sessualità certamente è stato un processo il cui termine è finito lì e in questo senso si recupera anche quella dottrina patristica che questa cosa viene dopo il peccato originale cioè sarebbe la la grande questione il peccato originale se il peccato originale comincia con la disobbedienza cioè quando c'è stata la disobbedienza ancora non c'era stata la consumazione sessuale viene prima e quindi in un certo senso è corretto quello che dicono i padri della chiesa cioè solo dopo la trasgressione questa cosa è potuta entrare negli esseri umani se non ci fosse stata la disobbedienza questa cosa non poteva entrare capite noi dobbiamo anche un pochettino riflettere no? quindi tutto comincia con la disobbedienza che è mancanza di amore doveroso verso Dio superbia usurpare a Dio il potere di essere come lui che ha lo stesso peccato di Lucifero poi tra l'altro in questo anche anche Lucifero voleva diventare come Dio e si conclude con l'atto materiale quindi ancora curiosità intellettuale di Eva la disobbedienza si avvicina alla pianta presta fede a un serpente anche lì lì era proprio un serpente come tra l'altro scrive pure Sant'Ommaso d'Aquino che parla e lì anche lì chiedete un attimo come il serpente parla dato che gli animali parlano soltanto nei fumetti di Walt Disney no? insomma se le cose sono andate proprio così no? ecco e attenzione dopo aver fatto lei è andata a sedurre Adamo allo stesso peccato ecco perché su lei pesa una maggiore punizione e aver sedotto Adamo e aver sedotto Adamo significa aver rovinato il genere umano perché mentre lei non era il capostivio del genere umano Adamo sì e cominciano poi a darsi la colpa gli uni con gli altri ok? quindi attenzione lussuria spirituale significa essere come voler essere come Dio lussuria morale vuol dire conoscere il bene e il male e lussuria carnale vuol dire quello che sappiamo in ogni caso Dio che aveva dato nello stato di innocenza il comando di riprodursi crescetevi e moltiplicate e vi riempite la terra voleva che gli uomini lo facesse solo che gli uomini lo facessero quando lui avesse ritenuto opportuno e lo avesse comandato e lo avessero fatto non al modo animale che è conseguenza della disobbedienza ma una riproduzione santa senza l'invidine per generare altri figli di Dio questo è fondamentalmente questo è fondamentalmente ed ecco comprendiamo quindi anche alla luce di questo come mai come mai il peccato originale si trasmette dove? nell'atto del concepimento nell'atto del concepimento comprendiamo anche perché perché per gli ebrei il segno dell'alleanza di Abramo la circoncisione dell'organo genitale maschile ne abbiamo già accennate queste cose perché? perché una pratica così barbara insomma così così cruente insomma e soltanto che ci pensano una cosa del genere pensare che il nostro signore Gesù Cristo l'ha pure vissuto in maniera consapevole un po' poverino insomma perché? perché tutte quante le leggi le abbiamo viste quando abbiamo fatto la parte biblica sull'impurità della donna legate al ciclo mestruale legate al parto ma perché i dolori del parto? perché i dolori del parto? eccetera no? ma perché anche perché anche questo l'abbiamo visto la necessità di un sacramento per qualcuno cioè perché due battezzati come dice la legge della chiesa non possono unirsi non esiste tra loro altro matrimonio che non sia quello nella forma sacramentale capite? e attenzione qui c'è qualcuno che fa le obiezioni dice allora tutti quanti gli uomini peccano mortalmente tranne i come dire i battezzati che possono che possono sposarsi vivendo un sacramento allora amici è chiaro che questa situazione cioè se ci fosse una coppia di persone non battezzate non cristiane quindi che si unisce il matrimonio attenzione è comunque fondato sul diritto naturale e adesso non ci sono altri modi per perpetuare il genere umano se ci fossero due persone che per qualche grazia ricevuta sono capaci di prendersi l'uno con l'altro amarsi in maniera esclusiva per tutta la vita senza tradirsi e usare la sessualità solo nella maniera santa che è diretta all'appunto unione coniugale aperta alla vita e io non sono nessuno per dirlo insomma non avendo questi poverini ricevuta la grazia del sacramento del battesimo quindi la possibilità di come dire santificare questo atto espungendolo da ogni peccaminosità almeno nell'atto fermo restando che come si chiedevano a già i padri dice ma come mai se io ho tolto questi sono battezzati sono nedi dal matrimonio e però trasmettono il peccato originale ma che è possibile una cosa del genere se sono puri come fanno se addirittura l'atto è blindato da un sacramento come fanno loro non fanno peccato però trasmettono un peccato originale si chiedevano perché i padri erano intelligenti non è mica stupidi ecco quindi è chiaro è per questo che Gesù ha detto andate in tutto il mondo annunziate il mangiare ad ogni creatura perché non è la stessa cosa vivere da battezzati avere i sacramenti oppure no è chiaro che poi il Signore è una persona che non ha ricevuto i sacramenti non ha ricevuto l'annuncio del Vangelo o non è comunque entrato in condizioni soggettive per poterlo accogliere o per poter entrare tutte quante le cose che lui solo sa certamente nel giudizio si atterrà alla coscienza che ha avuto quel suo quella sua creatura non ci sono adesso altri sistemi d'accordo però ci vuole anche la grazia perché anche due persone che sono sposate non è che sono al riparo da possibili peccati impuri anzi tutt'altro insomma sappiamo che questo è sempre incombente quindi questo è un pochino quello che emerge dagli scritti di Maria Valtorta con l'appendice che oggi abbiamo visto per chi dubitasse di qualcosa che i reperti scientifici che attestano l'esistenza di mostri scimmioni hanno una spiegazione un'ultima cosa perché poi la prossima volta dovremo cominciare questo argomento attenzione che la responsabile principale cioè colei che ha iniziato il peccato originale è stata Eva ne porta la responsabilità più grande ed è stata la seduttrice di Adamo su questo non c'è assolutamente dubbio e questo è un dato perfettamente coerente con quello biblico la prossima volta vedremo che nei racconti di Genesi Biblica questa cosa non c'è cioè il coinvolgimento di Eva nel peccato originale non esiste e questo a mio avviso è una delle cose che rende questa cosa assolutamente inaccettabile fermo restando che potrei sbagliare inaccettabile per tantissime motivazioni che poi la prossima volta vedremo ora ci fermiamo che il tempo è terminato dandoci appuntamento a Dio piacendo alla prossima puntata e Dio benedica e la Santa Vergine sempre vivo regga a Dio benedica che mi ha fatto a Dio benedica